Io la trovo una cosa molto equilibrata, nel senso che in una situazione così difficile siamo riusciti a tenere dal punto di vista dell'economia investimenti significativi, uno per tutti, la prossima legge che andrà in aula a gennaio sulla riforma del manifatturiero con risorse importanti che vengono allocate e dall'altra risorse perché riguardano tutto il welfare. Mantenere investimenti da una parte e risorse dall'altra non era semplice, era molto complicato. Così a nome della Giunta il Vicepresidente regionale Bolzonello illustra ai nostri microfoni i punti di forza della Finanziaria 2015. Tra i molteplici argomenti trattati anche oggi spicca quello dell'impegno sul sociale che incassa anche critiche dall'opposizione. Questa regione sono dati recenti, 113 mila persone circa sono in condizioni di grave deprivazione, sono persone che hanno difficoltà ad arrivare non alla quarta settimana ma alla seconda settimana. Le persone non hanno nemmeno i soldi per riuscire a far mangiare la famiglia. Allora io contesto a un'amministrazione di centro-sinistra non aver posto maggiormente l'attenzione in termini immediati su questo problema. In questa finanziaria è previsto un aumento di 5 mila euro per il Banco Alimentare, lo trovo davvero riduttivo e penso che avrebbero dovuto fare qualcosa di più. Possiamo dire che un'associazione ha preso un mille euro in meno, non ha preso un mille euro in più. Io guardo il contenuto complessivo, non posso fare diversamente e il contenuto complessivo sta a dimostrare che nel welfare non sono stati tagliati fondi ma nel suo complesso non sono stati aumentati. Insomma mi pare un bel risultato. Grazie. Grazie.